Cosa c'è per secondo, per cortesia? Ma signor, per secondo c'è la porchetta a pecorina. Come cucinata? Col fuoco e c'è un bel ciuffo di rosmarino piantato dentro il bucio del culo. Ammazziamo gli ostaggi! Ci metteranno te a capo dell'antilapina adesso? Non lo so. Tu per adesso devi pensare solo a rimediarmi una macchina e soprattutto a trovarmi chi la deve guidare. Deve essere una che tiene le palle quadrate. Questo è già tutto risolto. Muori meglio il monnezzo. Noi dobbiamo tenere in piedi sta maledetta federazione. A Gigi, l'immortaggio tua, ma perché la guadano la paglia? Ammazziamo, ma se non c'è una lira. E vatti a prendere quel brillo, no? Che c'ho i gioielli io? Eh? Dove stanno? Ma questo è davvero. E tu sei le coccio. Una comunicazione della Criminal Pole. Belli è a Roma. C'è un movimento grosso. Ah sì, eh? Lascia a perdere. A Gianni, a voi vi piace troppo da sparare? Apri! Monnezza? Buonasera, da tu? Belli. Lo conosci? Per Belli? Ce si può affidare di questo monnezza? C'ha le sue idee. L'uomini che c'ho io non ci vogliono avere niente a che fa quelle armi. Noi lavoriamo puliti. Ammoni, hanno ammazzato la nocchia. Se tu becchi la mano dove c'ho il fiammifero, io ti devo da fuoco. Va bene? Se invece becchi l'altra mano dove c'ho il gettone, tu mi devi dire il nome, l'indirizzo e il telefono. De quel figlio della mignotta che ti ha fatto bruciare l'occhio. Va bene? Oh, fermate. È belli. Ma che vuoi fare? Ecco te il gettone. Ma che vuoi fare? Ti chiamai i pompieri, stronzo. Lui c'ha le sue idee e io c'ho le mie. E che sgarra l'ammazzo. La valigia, la valigia! Uno che ci potrebbe dare una mano è Monnizza. Bravo. Questa sì che è un'idea. Se volete fare i pistoleri vuol dire che non siete degni di appartenere alla nostra federazione. Questa federazione italiana gratta antiviolenza. Non dobbiamo addoperare le pallottole. Dobbiamo addoperare queste, le palle. Evviva la figa! Evviva! Evviva il culo! Evviva! Io a Roma da sempre so' è Monnizza. Uno dei migliori della mala vita. Faccio come mi pare. Ne passo l'esistenza sulla pelle Du. No! No! Grazie.